Emma, capitolo ventunesimo. Non ci riusciva. Eppure il giorno dopo, Mr. Knightley, sebbene all'incontro non avendo notato offesa e risentimento, ma anzi meravigliato per la cortesia e l'amabilità del comportamento da entrambe le parti, trovandosi di nuovo a Harfield per parlare d'affari con Mr. Woodhouse, espresse la sua totale soddisfazione. Non proprio apertamente, come avrebbe fatto se non ci fosse stato Mr. Woodhouse, ma facendosi comunque capire da Emma. Aveva sempre pensato che fosse ingiusta verso Jane e ora era felice del miglioramento. Una serata davvero piacevole, iniziò a dire dopo che ebbe convinto Mr. Woodhouse a portare via le scartoffie. Voi, Miss Fairfax, ci avete fatto ascoltare dell'ottima musica. Non mi viene in mente una situazione migliore, caro amico, di stare tranquillo a godersi la compagnia, la musica e la conversazione di due simili signorine per un'intera serata. Sono sicuro, Emma, che anche Jane Fairfax avrà trovato piacevole la serata. Siete stata davvero gentile a farla suonare così a lungo, visto che dalla nonna non ha un pianoforte. Sono felice della vostra approvazione, rispose Emma con un sorriso. Ma spero di essere sempre cortese con tutti gli ospiti di Harfield. Certo, tesoro, intervenne subito il padre. Nessuno può competere con te in gentilezza e cortesia, anzi, sei anche troppo premurosa. Forse dovevi far girare il muffin una volta sola ieri sera. Certo, disse Mr. Knightley quasi all'unisono. Lo siete sempre per abitudine e sensibilità, ma credo che mi abbiate capito. Con un'occhiata maliziosa che significava certo che ho capito, disse, Miss Fairfax è molto riservata. Vi ho sempre detto che un po' lo è, ma sicuramente voi vincerete la sua diffidenza, anche se bisogna apprezzare la riservatezza dovuta alla discrezione. Non capisco perché sia così diffidente. Cara Emma, disse lui avvicinandosi, non direte che non avete passato una bella serata? Come no, mi sono divertita nel fare domande e notare quante poche informazioni ho ricevuto. Sono deluso, si limitò a rispondere lui. Spero che tutti abbiano passato una bella serata, intervenne tranquillamente Mr. Woodhouse. Per me lo è stata. Solo un momento il fuoco era troppo caldo. Allora ho spostato un po' la sedia e sono stato di nuovo bene. Miss Bates era di ottimo umore e chiacchierona come sempre, anche se forse parla un po' troppo velocemente. In ogni caso è una persona piacevole e anche sua madre in un modo diverso. Mi piace stare con i vecchi amici. Jane Fairfax è davvero una ragazza molto carina, carina e ben educata. Deve aver passato una bella serata ieri, caro Knightley, grazie a Emma. Certo, ed Emma grazie a Jane. Emma notò la sua preoccupazione e, cercando di ridurla, disse con una sincerità di cui nessuno poteva dubitare, ha un'eleganza che non si finisce mai di ammirare. La guardo e l'ammiro e la compatisco di cuore. Mr. Knightley sembrò più soddisfatto di quanto volesse rivelare e, prima che si decidesse a dire qualcosa, Mr. Woodhouse, che stava ancora pensando a Mrs. e Miss Bates, esclamò. Mi dispiace che vivano in ristrettezze e spesso vorrei, ma ci si può sbilanciare poco. Cose da nulla, cose comuni. Ora abbiamo ammazzato il maiale ed Emma proponeva di mandar loro un lombo o un cosciotto e un pezzo piccolo di carne tenera. I maiali di Harfield sono diversi dagli altri maiali, ma sono sempre maiali. Ma dobbiamo esser sicuri che ci facciano delle braciole cotte bene, come facciamo noi, per togliere il grasso e non le arrostiscano perché nessuno stomaco può sopportare il maiale arrosto. Forse è meglio mandare il cosciotto, non credi, tesoro? Papà, ho inviato loro un intero quarto posteriore perché sapevo che ti avrebbe fatto piacere. Così hanno la coscia da salare, una delizia, e il lombo da cucinare come preferiscono. Ottimo tesoro, ottimo, non ci avevo pensato, ma è la soluzione migliore. Però non devono salare troppo la coscia perché solo se non la salano troppo e la fanno bollire a lungo, come fa Serle di solito e la mangiano in piccole quantità con della rapa lessa e un po' di carote o altre radici, diventa digeribile. Emma, disse all'improvviso Mr. Knightley. Devo darvi una notizia. Mentre venivo ne ho sentita una che credo vi interesserà. Notizie, le notizie mi piacciono sempre. Di che si tratta? Perché sorridete così? Dove l'avete sentita? A Randall's? Ebbe solo il tempo di dire No, non a Randall's, perché non sono stato da quelle parti. Che la porta si spalancò ed entrarono Miss Bates e Jane Fairfax. Miss Bates non sapeva da che parte cominciare dai ringraziamenti o dalle notizie e quindi Mr. Knightley capì che aveva perso il turno e che non sarebbe riuscito ad aggiungere una sola parola. Oh, caro signore, come state stamani? Cara Miss Woodhouse, non ho parole per ringraziarvi di un così bel quarto di maiale. Troppo generosa. Ma avete saputo la notizia? Mr. Elton si sposa. Emma non aveva più pensato da tempo al reverendo e rimase talmente meravigliata che non riuscì a non sobbalzare e arrossire. Allora Mr. Knightley, con un sorriso che implicava una qualche conoscenza di ciò che era successo fra lei ed Elton, aggiunse. E la notizia che volevo darvi? Pensavo vi interessasse. Come avete fatto a saperlo voi? gridò Miss Bates. Dove l'avete sentita, Mr. Knightley? Il biglietto di Mrs. Cole non mi è arrivato da più di cinque minuti, al massimo dieci. Avevo appena indossato cuffie e scialle per uscire, ero scesa per parlare di nuovo con Patti del maiale, intanto Jane aspettava nel corridoio. Vero Jane? Perché mia madre era preoccupata che non avessimo una pentola abbastanza grande per salare. Subito Jane si offerta di scendere. Oh tesoro, ho esclamato, e proprio in quel momento è arrivato il biglietto. Si tratta di una certa Miss Hawkins, non so altro, Miss Hawkins di Bat. Diteci, Mr. Knightley, come avete fatto a saperlo? Perché Mrs. Cole me l'ha riferito appena l'ha saputo dal marito, una certa Miss Hawkins. Ero con Mr. Cole per affari circa un'ora e mezzo fa. Mi ha subito mostrato la lettera di Mr. Elton, che aveva appena terminato di leggere. Ah, ecco, che notizia interessante. Caro Mr. Woodhouse, siete davvero troppo generoso. Mia madre la ringrazia calorosamente e dice che le mandate troppi doni. Consideriamo il maiale di Hartfield migliore degli altri maiali, disse Mr. Woodhouse. Ed io ed Emma siamo davvero felicidi. Oh caro signore, come dice la mamma, i nostri amici sono troppo buoni con noi. Siamo persone non particolarmente ricche, ma molto fortunate. Possiamo affermare con le parole dei salmi che ci è toccata in sorte una bella eredità. Dunque, Mr. Knightley, avete visto la lettera? Era breve, giusto per dare la notizia, ma ovviamente allegra, direi esultante, e guardò furtivamente Emma. Era stato così fortunato che... Non ricordo le parole precise, ma non serve ricordarle. La notizia è che, come dite, sposerà una certa Miss Hawkins. Da come scriveva, credo sia tutto già fatto. Mr. Elton si sposa, disse Emma appena poté parlare. Avrà auguri e felicitazioni da tutti. È molto giovane per sistemarsi, commentò Mr. Woodhouse. Avrebbe fatto meglio ad aspettare. Stava proprio bene ed era piacevole vederlo spesso qui a Darkfield. Una nuova vicina per tutti, Miss Woodhouse, disse allegramente Miss Bates. Mia madre ne è contentissima, non sopportava più la canonica senza una padrona di casa. È una notizia meravigliosa. Jane, tu non hai mai visto il reverendo e sarai curiosa di conoscerlo. Non sembrava che la curiosità di Jane fosse così irresistibile. No, non conosco Mr. Elton, disse chiamata in causa. È... è un uomo alto. Difficile rispondere, disse Emma allegramente. Mio padre direbbe di sì, Mr. Knightley di no, e Miss Bates è di io, che è proprio il giusto mezzo. Dopo che avrete passato più tempo qui, cara Miss Fairfax, capirete che Mr. Elton, qui ad Ivory, è un modello di perfezione fisica e morale. Vero, Miss Woodhouse? Verissimo! È un giovane meraviglioso. Ma, cara Jane, se ti ricordi, ti dicevo proprio ieri che è alto quanto il dottor Perry. Di certo, Miss Hawkins sarà una ragazza eccezionale. Come Mr. Elton, sempre così premuroso. Come quando ha insistito perché la mamma sedesse nel banco riservato della canonica per poter sentire meglio. Dato che la mamma è un poco sorda, sapete, ma poco, solo non capisce le parole se si va in fretta. Jane dice che anche Mr. Campbell è un po' sordo. pensava di migliorare grazie ai bagni termali, ma le sembra che sia più o meno uguale. Mr. Campbell, lo sapete, è il nostro angelo custode e Mr. Dixon è degno di lui. È così bello quando le persone per bene si incontrano e succede sempre. Tra poco toccherà Mr. Elton e Miss Hawkins e poi Cole, ottime persone e i Perry, dei quali non c'è mai stata una coppia più felice. Credo, signore, disse rivolgendosi a Mr. Woodhouse, che in pochi altri posti ci sia una società come quella di Highbury. Siamo così fortunati ad avere questi vicini. Caro signore, il piatto preferito da mia madre è il maiale, la lombata di maiale arrosto. Immagino che non si abbiano notizie riguardo a Miss Hawkins e alla sua famiglia, disse Emma, e da quanto si conoscano, ma credo da poco, è partito solo da quattro settimane. Non c'erano altre informazioni e dopo aver girato a vuoto un altro po', Emma aggiunse. Siete rimasta in silenzio, Miss Fairfax, ma dovete interessarvi a questa vicenda. Voi che ultimamente avete già vissuto situazioni simili e ne siete rimasta coinvolta grazie a Miss Campbell, non potete rimanere indifferente a Mr. Elton e alla sua futura sposa. Quando conoscerò il reverendo? rispose Jane. Cercherò di interessarmene. Temo di averne bisogno. Ormai sono passati diversi mesi dal matrimonio di Miss Campbell e la mia agitazione si è calmata. Sì, Mr. Elton è partito proprio quattro settimane fa, come dite voi Miss Woodhouse, disse Miss Bates. Quattro settimane ieri, Miss Hawkins, e pensare che avevo sempre immaginato che avrebbe sposato una giovane di questa zona. Una volta Mrs. Cole mi ha suggerito, ma io subito ho replicato. No, Mr. Elton è tanto una degna persona, ma... Insomma, non credo di essere molto sveglia in questo genere di scoperte. Non pretendo di esserlo. Vedo quello che mi capita sotto il naso. Allo stesso tempo nessuno si stupisce che Mr. Elton abbia potuto aspirare. Miss Woodhouse mi lascia chiacchierare allegramente. Sa che non voglio offendere nessuno. Come sta Miss Smith? Ormai è guarita del tutto. E avete notizie recenti di Mrs. Knightley? O quei bambinetti meravigliosi? Sai Jane che mi immagino una somiglianza tra Mr. Dixon e Mr. Knightley? Nell'aspetto, dico, l'altezza e il portamento. Ti sbagli, cara zia? Non si somigliano per niente. Strano, ma si sbaglia sempre a immaginarsi le persone prima di conoscerle. Si corre di fantasia. Dicevi che Mr. Dixon non è bello, giusto? Infatti, è decisamente brutto, te l'ho detto. Ma hai anche detto che Miss Campbell non lo vede brutto e che tu stessa? Cosa conta il mio giudizio? Se apprezzo una persona, la trovo bella. Ma secondo la maggior parte delle persone è brutto. Jane, mi sa che adesso dobbiamo scappare. Il tempo sta peggiorando e la nonna si preoccuperà. Siete tanto gentile, cara Miss Woodhouse, ma dobbiamo proprio andare. Vista la bella notizia, voglio fermarmi un attimo da Mrs. Cole, proprio un attimo. Intanto, Jane, avviati a casa. Non vorrei che ti bagnassi tutta, visto che stai già meglio da quando sei arrivata ad Ivory. Non sappiamo davvero come ringraziarvi. Non mi fermerò da Mrs. Goddard, perché credo che si interessi solo a come si lessa il maiale. Ci penserò quando prepareremo la coscia. Arrivederci, caro signore. Oh, viene via anche Mr. Nightly. Beh, è proprio molto... Scommetto che se Jane si sentirà stanca, sarà così gentile da darle il braccio. Mr. Elton e Mr. Hawkins, arrivederci a tutti. Emma, sola con suo padre, ascoltava solo per metà le sue lamentele sui giovani che hanno tanta fretta di sposarsi e sposarsi con forestiere per giunta. Per metà si dedicava alle sue riflessioni sull'argomento. Era stata contenta della notizia. Un'ulteriore prova che Mr. Elton non aveva sofferto a lungo, ma le dispiaceva per Harriet. Harriet ne avrebbe sofferto e poteva augurarsi solo di essere la prima a darle la notizia, prima che la sapesse a bruciapelo da altri. Era proprio l'ora in cui veniva a trovarla di solito. Si avesse incontrato Miss Bates per strada. Visto il brutto tempo, Emma immaginò che si sarebbe trattenuta da Mrs. Goddard e che avrebbe saputo la notizia senza la minima preparazione. L'acquazzone fu violento ma breve. Erano passati solo cinque minuti che subito entrò Harriet con un aspetto sconvolto e accaldato, tipico di chi si è messo a correre. E le parole «Oh, Miss Woodhouse, sapeste cosa è successo?» testimoniarono il turbamento avuto. Visto che il colpo era già stato inferto, Emma poteva solo stare ad ascoltare. E Harriet si mise subito a raccontare. Mezz'ora prima era uscita dalla casa di Mrs. Goddard. Si era spaventata per la pioggia. Di un diluvio prima del suo arrivo a Harfield, quindi si era frettata il più possibile. Poi, passando davanti alla casa di una sartina che le stava accucendo un vestito, aveva pensato di fermarsi un attimo per controllare il lavoro. E davvero non si era trattenuta più di mezzo secondo quando, uscita, aveva iniziato a piovere senza che lei sapesse cosa fare. Di corsa si era ripetuta, da Ford, il più grande negozio di tessuti di lana, biancheria e merceria. Il numero uno del paese, per ampiezza e nome. Se n'era rimasta là sovrappensiero per circa dieci minuti, quando d'improvviso chi vede? Oh, che cosa strana! D'altra parte si servivano sempre da Ford. Chi vede, se non Elizabeth Martin e suo fratello? Cara Miss Woodhouse, pensavo di svenire. Non sapevo che fare. Stavo seduta vicino alla porta. Elizabeth mi ha vista subito, ma lui no. Trafficava con l'ombrello. Sono sicura che lei mi abbia vista, ma ha guardato dall'altra parte, facendo finta di niente. E sono andati dalla parte opposta del negozio. E io sono rimasta seduta vicino alla porta. Oh, mi sentivo così infelice. Sarò stata bianca come questo vestito. Non potevo andare via a causa della pioggia. Eppure avrei voluto scomparire. Oh, Miss Woodhouse! Poi, alla fine, guardandosi intorno, deve avermi vista perché, invece di proseguire con gli acquisti, hanno iniziato a parlottare. Di sicuro parlavano di me, e mi immagino che lui tentasse di convincerla a parlarmi. Non lo credete anche voi, Miss Woodhouse? Allora mi è venuta incontro, si è avvicinata e mi ha chiesto come stavo, accennando a stringermi la mano, in attesa che gliela dessi. Ma si vedeva che era diversa dal solito, pur cercando di essere gentile. Ci siamo date la mano e abbiamo parlato per un po'. Non mi ricordo nemmeno di cosa. Ero talmente agitata. Ricordo che ha detto di essere dispiaciuta che non ci vedevamo più. E questo mi è sembrato fin troppo gentile. Cara Miss Woodhouse, mi sentivo così infelice. Intanto stava smettendo di piovere e io volevo andare. Quando mi sono accorta che si stava avvicinando anche lui, lentamente, come se non sapesse cosa doveva fare. Alla fine si è avvicinato e mi ha parlato. E io ho risposto e mi sentivo morire. Poi ho preso coraggio e ho detto che dovevo andare visto che non pioveva più. Ma mi ero allontanata solo di qualche passo dalla porta, quando lui mi era giunta per dirmi che, se venivo verso Hartfield, sarebbe stato meglio passare dalla parte delle stalle dei Col, perché la strada principale doveva essere completamente allagata per la pioggia. Allora sì che mi sentivo morire. L'ho ringraziato. Non potevo farne a meno. E allora lui è tornato da Elizabeth e io sono passata dalle stalle. O almeno credo perché non sapevo più dov'ero. Oh, Miss Woodhouse, come vorrei non averlo incontrato. Eppure sono contenta del suo comportamento amichevole e gentile. E anche di quello di Elizabeth. Oh, Miss Woodhouse, ditemi qualcosa in modo che me ne torni tranquilla. Emma voleva farlo, ma dovette riflettere un attimo. Era la prima a non essere tranquilla. Non poteva che ammirare il comportamento del giovane e di sua sorella, che sembrava del tutto sincero. Secondo le parole di Harriet, nel loro atteggiamento si notava una sincera mescolanza di affetto ferito e di delicatezza autentica. Li aveva sempre considerati gente perbene e degna di rispetto. Perché adesso si sentiva turbata? Di sicuro doveva essergli dispiaciuto perderla. Era stato mortificato il suo amore e anche la sua ambizione. Probabilmente tutti avevano sperato di elevarsi socialmente grazie ad Harriet. Ma quanto potevano contare le sue parole? Era talmente ingenua quanto poteva contare il suo entusiasmo. Si fece forza e cercò di calmarla non dando troppa importanza all'accaduto e minimizzando come se niente fosse. Deve essere stato imbarazzante, disse. Ma vi siete comportata molto bene, sembra. Ormai è passato e non è detto che si ripeta. Anzi, non ci sarà un altro primo incontro, quindi non pensateci più. Harriet disse. Benissimo. Ma continuò a parlarne. Non riusciva a parlare d'altro. Tanto che alla fine Emma, per cambiare argomento rispetto ai Martin, finì per buttarsi sulla novità, che prima voleva affrontare con tanta premura. Non sapeva se rallegrarsi o arrabbiarsi, se vergognarsi o divertirsi di fronte allo stato confusionale della povera Harriet. È una così misera fine dell'importanza che Mr. Elton aveva avuto per lei. Comunque pian piano si imposero nuovamente i diritti del reverendo. Pur non reagendo alla notizia come avrebbe fatto il giorno precedente, o solo un'ora prima, presto se ne interessò e durante quella prima conversazione espresse curiosità, stupore, rimpianto, dolore per la fortuna di Miss Hawkins che, giustamente, mise in secondo piano i Martin. Emma capì di doversi rallegrare di quell'incontro casuale. Era stato utile per attutire il colpo e non avrebbe portato conseguenze. Considerando la vita di Harriet, i Martin avrebbero potuto cercarla solo dove non osavano andare. Infatti, dopo il rifiuto, le sorelle non erano più andate da Mrs. Goddard e sarebbe potuto passare un anno intero senza che si incontrassero di nuovo, visto che non avevano necessità, ma nemmeno occasioni di parlarsi. Capitolo ventiduesimo. La natura umana è istintivamente portata verso la gente che si trova in una situazione cruciale e quindi tutti si interessano a una persona giovane che si sposa o muore. Dopo una sola settimana da quando era stato pronunciato per la prima volta il nome di Miss Hawkins a Ivory si diceva che la ragazza possedeva ogni virtù fisica e morale. Era bella, elegante, colta, affascinante. Tanto che quando arrivò Mr. Elton in persona per godersi il suo momento e mettere in giro delle voci sulle virtù della sua sposa, dovette limitarsi a riferirne il nome di Battesimo e a rivelare il compositore che preferiva suonare. Mr. Elton tornò al settimo cielo. Si era allontanato, respinto e umiliato, deluso da segnali che gli erano sembrati incoraggiamenti espliciti. Non solo aveva perso la sua amata, ma si era persino sentito abbassato al livello di una che non aveva mai guardato. Era stato profondamente offeso, ma ora tornava affidanzato con un'altra e per giunta migliore della precedente, perché si sa che in certe occasioni ciò che si guadagna è sempre meglio di ciò che si è perso. Tornava allegro e deciso, impegnato e frenetico, indifferente a Miss Woodhouse e altezzoso verso Miss Smith. La meravigliosa Augusta Hawkins, oltre alle sue virtù e alla sua eccezionale bellezza, possedeva anche un cospicuo patrimonio personale di diverse migliaia di sterline. Diecimila, si diceva, cosa che faceva onore ad entrambi. Mr. Elton, dunque, aveva conquistato una donna da diecimila sterline o giù di lì. E anche velocemente, solo dopo un'ora dalle presentazioni, si erano già manifestati i primi segnali. Come potè vantarsi con Mr. Cole per quella rapida storia d'amore, passata per un incontro casuale al pranzo dei Green, alla festa di Mrs. Brown. Un crescendo di sorrisi e di rossori, prove evidenti di intenzioni ed emozioni. Era stato facile far colpo su di lei, così dolcemente ben disposta e, parlando chiaramente, così decisa ad averlo che aveva soddisfatto insieme vanità e prudenza. Aveva ottenuto entrambe, ricchezza e una compagna inseparabile, e adesso era l'uomo felice che doveva essere. Uno che parla solo di sé e delle sue gioie, che si aspetta felicitazioni, pronto anche a farsi ridere dietro e che si rivolge a tutte le ragazze del luogo con una galanteria che fino a qualche settimana non si sarebbe mai sognato. Le nozze erano vicine, perché gli sposi dovevano rendere conto solo a se stessi e dovevano aspettare solo la conclusione dei preparativi. E quando Mr. Elton tornò a Watt, tutti si attendevano, come confermato anche da alcune espressioni di Mrs. Cole, che non sarebbe tornato da solo ad Ibury. Durante questo breve soggiorno Emma lo aveva visto di sfuggita, ma abbastanza per accertarsi che il primo impatto era stato superato e per notare che quella mescolanza di ripicca e di presunzione, che adesso lo avvolgeva, non lo migliorava per niente. Quindi iniziò seriamente a chiedersi come aveva fatto a considerarlo simpatico. Tutte le volte che lo vedeva si sentiva così male che sarebbe stata contenta di non rivederlo più. Non fosse stato, per trarne una lezione, un monito, una fonte d'umiliazione. Gli augurava tutto il bene possibile, ma visto che lo considerava un fastidio sarebbe stata contenta di saperlo felice venti miglia più in là. Per fortuna il fastidio della sua vicinanza ad Ibury sarebbe stato attenuato dal matrimonio. Avrebbe evitato cortesie indesiderate e smorzato un prevedibile imbarazzo. Una Mrs. Elton era un'ottima giustificazione per il cambiamento delle loro frequentazioni. Le abitudini precedenti potevano essere modificate senza suscitare pettegolezzi. Avrebbero ripreso la cortesia usuale. Della futura moglie Emma non sapeva cosa pensare. Di sicuro era adatta per lui e abbastanza accolta per Ibury, sufficientemente bella, ma non certo in confronto ad Harriet. Quanto alla famiglia, Emma era certa che, nonostante il suo disprezzo per Harriet e le sue dichiarate pretese, non avesse concluso un granché e riguardo a ciò era facile trarre conclusioni. Ancora non si sapeva chi era, ma intuiva e, diecimila sterline a parte, non sembrava per niente superiore ad Harriet. Non vantava nome, sangue, dinastia. Augusta Hawkins era semplicemente la figlia minore di un commerciante, come definirlo, se no, di Bristol. E dato che il suo giro d'affari era abbastanza modesto, si poteva supporre che lo fosse anche la dignità del campo in cui aveva esercitato. Miss Hawkins trascorreva ogni anno parte dell'inverno a Bath, ma viveva a Bristol, proprio in centro, perché, pur orfana da qualche anno, aveva ancora uno zio avvocato. Di lui non si sapeva altro che era avvocato e che aveva vissuto con la ragazza. Emma se lo immaginava come un uomo mediocre il galoppino di un avvocato. Tutta la fortuna della famiglia sembrava dipendere dalla sorella maggiore che si era sistemata sposando un gentiluomo ricco dei dintorni di Bristol, proprietario di ben due carrozze. Ecco quindi come stavano le cose. Ecco la storia gloriosa di Augusta Hawkins. Oh, se avesse potuto trasmettere a Harriet i suoi sentimenti sulla faccenda. Con le parole l'aveva convinta a innamorarsi, ma adesso non era altrettanto facile farla smettere. Le parole non erano sufficienti ad allontanare il fascino di un oggetto che aveva occupato tutti gli spazi vuoti di quella mente. Poteva solo essere sostituito da un altro, era ovvio. Persino Robert Martin sarebbe bastato. Harriet era una di quelle ragazze che, una volta cominciato a innamorarsi, non smettono più. E adesso rivedere Mr. Elton peggiorava la situazione. Finiva sempre per incontrarlo ovunque. Emma l'aveva visto una volta sola. Invece Harriet almeno due o tre volte al giorno lo incontrava o stava per farlo, lo sentiva, lo scorgeva di spalle o in ogni caso teneva vivo il suo ricordo. Ne sentiva parlare ovunque, perché se non quando si trovava a Darfield era sempre in mezzo a comari che non trovavano in Mr. Elton nessun difetto. E non avevano niente di più interessante che farsi i fatti suoi. Per cui le arrivava ogni voce, ogni chiacchiera, ogni previsione riguardo a reddito, servitù e persino un movilio. Per quelle lodi costanti la sua ammirazione si rafforzava. Il suo rimpianto si manteneva e il suo dolore cresceva con le continue chiacchiere sulla felicità di Miss Hawkins e sulle ciance su quanto era innamorato, vista l'espressione che aveva per strada e il modo in cui teneva il cappello. Se Harriet non ne avesse sofferto, Emma si sarebbe divertita. Ogni tanto predominava Mr. Elton, ogni tanto i Martin, e l'uno serviva a limitare l'altro. Il fidanzamento di Mr. Elton aveva alleviato l'emozione dell'incontro con Mr. Martin. L'infelicità causata dal fidanzamento era stata affievolita da una visita di Elizabeth Martin da Miss Goddard qualche giorno dopo. Harriet in quel momento non era in casa, ma le era stato lasciato un biglietto fatto apposta per colpirla. Un pizzico di rimprovero misto a gentilezza e fino alla comparsa di Mr. Elton Harriet era stata tutta presa da quel messaggio, rimuginando su cosa potesse fare in cambio e desiderando sbilanciarsi di più di quanto non osasse ammettere. Ma l'arrivo del reverendo aveva allontanato quelle preoccupazioni. Durante la sua permanenza i Martin furono dimenticati e proprio la mattina della partenza per Bath, Emma decise che Harriet dovesse restituire la visita a Elizabeth Martin per alleviare la tristezza dell'amica. Avevano pensato a lungo a come rispondere a quella visita. Era scortese dimenticarsi di madre e figlie, ma era rischioso anche riprendere i rapporti. Dopo lunghe riflessioni, Emma stabilì che Harriet dovesse per forza ricambiare la visita, ma in modo che capissero che dovevano limitarsi solo a un rapporto formale. L'intenzione era di accompagnarla con la sua carrozza, lasciarla ad Abbey Mill, proseguire nel frattempo un po' più in là, tornare a riprenderla abbastanza presto per evitare insistenze o pericolosi ricordi e far capire chiaramente quale tipo di rapporto dovevano tenere per il futuro. Non le veniva in mente niente di meglio. E benché in tutto questo ci fosse qualcosa che non approvava, una sorta di ingratitudine appena appena mascherata, non si poteva fare diversamente. O cosa sarebbe stato di Harriet? Capitolo ventitresimo. Harriet non aveva voglia di fare visite. Solo mezz'ora prima che la sua amica passasse a prenderla da Mrs. Gardner, la sua sfortuna l'aveva indirizzata proprio nel posto in cui, in quel preciso momento, si spediva un baule destinato al reverendo Philip Elton, White Hart Bat. Aveva visto che veniva caricato su un carro che l'avrebbe portato dove passavano le diligenze e quindi era concentrata solo su quel baule e quell'indirizzo. Comunque andò e appena raggiunsero la fattoria e lei scese all'inizio del viale che conduceva all'entrata principale in mezzo a due file di meli, iniziò a sentirsi agitata per quei particolari che un anno prima l'avevano rallegrata. Emma notò che aveva un'espressione spaurita e fu ancora più decisa nel non voler prolungare la visita più di un quarto d'ora, che lei impiegò per andare a trovare una vecchia domestica che si era stabilita a Donwell dopo il matrimonio. Esattamente dopo un quarto d'ora si ripresentò al cancello e, chiamata, giunse subito Miss Smith, senza la scorta di qualche pericoloso giovanotto. Mentre percorreva da sola il vialetto di Ghiaia, una delle Martin si affacciava dalla porta e la salutava gentilmente. All'inizio Harriet non riusciva a raccontare, era troppo agitata, ma alla fine riferì ad Emma come era andato l'incontro e quanto fosse colpita. Aveva visto solo Miss Martin e le due figlie. L'avevano accolta con un certo imbarazzo, se non proprio con freddezza, e per quasi tutto il tempo avevano parlato di luoghi comuni. Poi, alla fine, Mrs. Martin aveva osservato che Harriet era cresciuta e aveva parlato più affettuosamente. Proprio in quella stanza le due amiche l'avevano misurata lo scorso settembre e sullo zoccolo in legno vicino alla finestra rimanevano ancora i segna matita. Li aveva scritti lui. Sembrava che tutte e tre si ricordassero il giorno, l'ora, i presenti, l'occasione. Che provassero gli stessi sentimenti, la stessa nostalgia e che fossero pronte a riprendere l'amicizia di un tempo. Stavano quasi per tornare a essere se stessi, e anche Harriet sospettava Emma, quando era comparsa la carrozza ed era finito tutto. Dunque, fu fondamentale la brevità di quella visita. Solo 15 minuti insieme a delle persone con cui, sei mesi prima, aveva trascorso sei settimane. Emma immaginava la scena e comprendeva il loro dispiacere e la sofferenza di Harriet. Era un brutto affare. Come avrebbe voluto che i Martin fossero più importanti nella scala sociale? Erano così brave persone che anche solo un gradino in più sarebbe bastato. Ma, vista la situazione, non poteva comportarsi diversamente. Non aveva nulla da rimproverarsi. Doveva allontanarli. Eppure era un processo doloroso anche per lei. E quindi decise di consolarsi passando per Randalls. Non ne poteva più di Mr. Elton e di Martin. Voleva proprio tranquillizzarsi con Randalls. Era una buona idea. Ma una volta all'ingresso fu detto loro che né il padrone né la padrona erano in casa. Erano usciti già da tempo e probabilmente erano andati a Darfield. Che noia! Esclamò Emma. Di sicuro non li incontreremo. Uffa! Da quando mi va tutto così male? E si ranicchiò in un angolo della carrozza per coltivare il suo malumore o per allontanarlo riflettendo. O forse un po' di entrambi. D'improvviso la carrozza si fermò. Alzò gli occhi e c'erano proprio i Weston che volevano parlarle. Emma si rallegrò immediatamente vedendoli e sentendo che Mr. Weston diceva. Come va? Come state? Siamo stati a chiacchierare un po' con vostro padre. Sono davvero contento di trovarlo bene. Domani arriva Frank. Ho ricevuto una lettera stamani. Arriverà per l'ora di cena. Oggi è a Oxford. Resterà per due settimane. Sapevo che sarebbe andata così. Fosse venuto a Natale sarebbe rimasto solo tre giorni. Invece ora avremo un tempo migliore, bello, secco, stabile. Ce lo godremo per bene. Accade tutto quel che desideravamo. Era una notizia meravigliosa. Ancora di più per la gioia che splendeva nel volto di Mr. Weston, confermata dalle parole più scarse e dall'atteggiamento più tranquillo della moglie. Sapere che anche lei fosse finalmente certa dell'arrivo di Frank, rassicurò Emma, felice quanto loro. Emma sperò che questa novità cancellasse del tutto le chiacchiere su Mr. Elton. Mr. Weston si dilungò sul resoconto del viaggio, della strada e di quello che avrebbero fatto. Presto lo porterò a Darfield, concluse. A Emma sembrò che a questo punto la moglie lo tirasse per la nanica. Andiamo adesso, non facciamo perdere altro tempo a queste ragazze. Va bene, andiamo. E rivolgendosi a Emma. Ma non aspettatevi un gran che. Avete avuto solo il mio parere. Ho paura che non lo considererete niente di speciale. Con uno scintillio negli occhi che esprimevano tutto il contrario. Emma seppe rispondere genericamente. Pensatemi domani, Emma cara, verso le quattro. Fu la preghiera rivolta esclusivamente a lei da Han mentre si salutavano. Alle quattro? Vedrai che arriverà alle tre, esclamò il marito. Dunque si concluse quel piacevolissimo incontro. L'umore di Emma era assai migliorato e tutto le sembrava diverso. Quando guardò le siepi, pensò che la pianta di Sambuco e forse anche le altre sarebbero fiorite presto e, guardando Harriet, anche su di lei notò un sorriso. «Mr. Churchill passerà per Bath dopo Oxford?» Non fu però una buona domanda. La conoscenza della geografia, come la serenità, non potevano arrivare d'improvviso ed Emma ora era così tranquilla che pensò che ci sarebbe stato tempo per entrambe. Giunse la mattina del giorno tanto atteso e la fedele amica di Mrs. Weston alle dieci, alle undici, alle dodici non si scordò che alle quattro doveva pensare a lei. «Cara, cara ansiosa amica», le diceva in un soliloquio mentale mentre scendeva le scale, «che ti preoccupi sempre di tutti, tranne di te stessa? Ti immagino andare venire almeno venti volte dalla stanza di Frank per assicurarti che ogni cosa sia a posto». Mentre passava nell'ingresso suonò mezzogiorno. «E' mezzogiorno, non mi scorderò di pensarti fra quattro ore e domani, alla stessa ora forse o un po' più tardi, potreste essere tutti qua, di sicuro verrete presto». Apri la porta del salottino e vide due signori seduti con suo padre, Weston e suo figlio. Erano arrivati solo da due minuti e il capitano stava proprio finendo di spiegare che Frank era arrivato un giorno prima del previsto e suo padre era ancora nel mezzo delle sue infinite cortesie e benvenuti, quando era comparsa lei per prendersi la sua razione di sorpresa, presentazioni e piacere. Davanti a lei, in carne e ossa, c'era il Frank Churchill di cui sarà tanto parlato. Le fu presentato e pensò che le lodi non fossero inferiori alla realtà. Era davvero un giovane attraente. Statura, atteggiamento, aspetto, era tutto inappuntabile e i suoi modi assomigliavano a quelli paterni. Sembrava brillante e intelligente. Emma capì all'istante che le sarebbe piaciuto, dimostrava gentilezza e voglia di parlarle e quindi si convinse che era venuto proprio per stringere amicizia con lei e che questa amicizia sarebbe presto divenuta realtà. Era arrivato a Randall's la sera prima. Emma fu felice del suo desiderio di arrivare, che gli aveva fatto modificare i programmi, viaggiando in anticipo, senza soste, arrivando tardi pur di guadagnare mezza giornata. «Cosa vi avevo detto ieri?» esclamò Weston al culmine della felicità. «Vi avevo detto che sarebbe arrivato prima del previsto. Anch'io facevo così. In viaggio si deve andar veloci più del previsto e il piacere di capitare dagli amici prima che inizino ad aspettarci vale cento volte il piccolo disagio che costa». «E' un grande piacere quando ci si può permettere», aggiunse il giovane. «Ovviamente non mi prenderei questo lusso con tutti, ma trattandosi di casa mia, sapevo che potevo permettermi questo e altro». Le parole «casa mia» suscitarono uno sguardo paterno pieno di autentica soddisfazione. Emma capì al volo che Frank sapeva come farsi voler bene. Una convinzione destinata a rafforzarsi subito dopo. Randall's gli piaceva moltissimo, non voleva saperne di ammettere che fosse piccola. Nello dò l'arredamento, la posizione, la passeggiata verso Highbury, la stessa Highbury, ancor di più Harfield, e dichiarò di aver sempre provato per quella zona il tipo di interesse che solo la propria terra può suscitare, unita a un'enorme curiosità di visitarla. Il sospetto che non si fosse sforzato troppo per realizzare il proprio desiderio attraversò per un attimo la mente di Emma. Comunque, anche se diceva il falso, faceva piacere e lo sapeva dire bene. Non aveva modi affettati né esagerati. Sembrava sinceramente contento. Gli argomenti trattati furono i consueti per conoscersi. Chiese «Andate a cavallo? vi piace cavalcare? Vi piace passeggiare? Avevano molti vicini? C'era compagnia sufficiente ad Ivory? C'erano diverse belle case dentro e fuori il paese? E c'erano balli? Da quelle parti apprezzavano la musica?» Dopo aver approfondito ogni punto e aver aumentato la loro confidenza, trovò il modo, mentre i due padri parlavano tra di loro, di nominare Anne Weston e parlarne con simili apprezzamenti, con così tante lodi, così tanta gratitudine per la felicità che assicurava al padre e la gentilezza con cui lo aveva accolto, che fu una prova ulteriore che sapeva farsi piacere e voleva piacere a lei. Non si dilungò più del dovuto nelle lodi dell'amica. Ancora non poteva conoscerla così bene da spingersi troppo oltre. Disse che il matrimonio di suo padre era stata una benedizione, di cui tutti gli amici dovevano gioire e che si sentiva riconoscente verso la famiglia da cui era provenuta quella benedizione. E pur lodando le virtù di Anne, dimostrò di non scordare che, a logica, era stata Miss Taylor a incidere sul carattere di Miss Woodhouse, non viceversa. Alla fine, come se si fosse deciso a esprimere la sua opinione, concluse esprimendo la sua sorpresa per la giovinezza e la bellezza di quella donna. Mi immaginavo che fosse piacevole ed elegante, disse. Ma ammetto che pensavo di farla conoscenza con un'amabile signora di una certa età. Non immaginavo che avrei trovato, invece, una giovane bellezza. Non noterete mai abbastanza qualità positive in Anne, disse Emma. Se vi capitasse di scoprire che ha solo diciotto anni, potrebbe quasi litigare con voi per queste parole. Non ditele mai che l'avete definita una giovane bellezza. Grazie per l'avvertimento, rispose. Poi aggiunse con un galante. Parlando con Mrs. Weston, adesso saprei chi elogiare senza correre il rischio di sembrare eccessivo. Emma si chiedeva se anche lui aveva dei sospetti riguardo alle attese sul loro incontro e se doveva interpretare quei complimenti come segni di resa o prove di sfida. Prima di capirlo, doveva conoscerlo meglio. Intanto si limitava ad esserne contenta. Era certa, invece, dei pensieri dell'ex capitano. Li guardava spesso di soppiatto, con occhi colmi di felicità. Ed Emma era sicura che, anche quando si sforzava di non osservarli, cercava comunque di ascoltarli. Si sentiva tranquillizzata, invece, dalla più completa assenza di sospetti in suo padre. Egli era ancora più lontano dal prevedere un matrimonio che dall'approvarlo. E quindi, sebbene criticasse ogni unione che veniva combinata, non soffriva in anticipo per paura che si realizzasse. Era come se non riuscisse a incolpare di un simile misfatto due persone, a meno che non avesse delle prove contro di loro. Emma ritenne provvidenziale quella cecità. Infatti, senza sospettare di un possibile tradimento del suo ospite, si comportava gentilmente, chiedendo a Frank del suo viaggio, della difficoltà di dover passare due notti per strada ed esprimendo la sua autentica ansia di sapere se si era preso un raffreddore, anche se la certezza si poteva raggiungere solo al mattino seguente. Dopo un po', Mr. Weston si alzò. Disse che doveva andare per sbrigare delle questioni al Crown riguardo al fieno e per fare degli acquisti da Ford per sua moglie, ma non voleva mettere fretta a nessuno. Ma Frank, troppo educato per approfittare di quell'accenno, si alzò immediatamente dicendo «Visto che avete degli impegni, padre, coglierò l'occasione per fare una visita che prima o poi devo fare». E quindi tanto vale non rimandare. Ho l'onore di conoscere una vostra vicina, rivolgendosi a Emma, una signora che abita ad Ibury o nelle vicinanze. Fairfax è il nome di famiglia. Penso che non avrò difficoltà a trovare la casa, anche se non dovrò cercare Fairfax, credo, ma Barnes o Bates. Conoscete una famiglia con questo nome? «Certo che la conosciamo», esclamò suo padre. «Miss Bates, siamo passati davanti alla casa e ho visto Miss Bates alla finestra». «Già, conosci Miss Fairfax. Ricordo che l'hai conosciuta a Weymouth, è una ragazza molto bella. Certo, vai a trovarla». «Non importa che vada subito», disse il giovane. «Posso andare anche un altro giorno, ma a Weymouth abbiamo stretto amicizia, quel tanto che...» «Vai oggi, vai, non rimandare. Non c'è un troppo presto per ciò che deve essere fatto». «E poi devo spiegarti una cosa, Frank. Qui dobbiamo essere cortesi con quella ragazza. Tu l'hai conosciuta con i Campbell, in condizione di parità con chiunque frequentasse, ma qui vive con una povera vecchia nonna che ha solo lo stretto necessario per vivere. Se tu non andassi presto, sembrerebbe un segno di disprezzo». Il figlio sembrò comprendere. «Ha parlato di questa vostra conoscenza», intervenne Emma. «È una ragazza molto elegante». Confermò, ma in modo talmente poco convinto da farle dubitare che lo pensasse davvero. Dunque nell'alta società si doveva avere una strana idea di eleganza, se si pensava che Jane Fairfax ne fosse dotata solo in modo comune. «Se non ne siete rimasto colpito prima», gli disse, «di sicuro vi colpirà oggi. La vedrete in una luce favorevole. La vedrete e l'ascolterete. No, ho paura che non l'ascolterete, visto che ha una zia che non sta mai zitta». «Conoscete già Miss Fairfax, Frank? Ho capito bene?», chiese Mr. Woodhouse, sempre ultimo nell'entrare in un discorso. «Permettetemi di dirvi che è una persona piacevolissima. Abiterà per un periodo da sua nonna e sua zia. Gente molto per bene. Le conosco da una vita. Saranno estremamente contente di vedervi, ne sono certo. Vi accompagnerà uno dei miei domestici per mostrarvi la strada». «No, non ce n'è bisogno. Può indicarmela mio padre». «Ma vostro padre non va da quella parte. Deve andare al Crown, praticamente dall'altro lato della strada. Poi ci sono tante case, potreste sbagliare, e la strada è fangosa, a meno che non prendiate il marciapiede. Ma il mio cocchiere vi dirà dove meglio attraversare». Frank Churchill tentò di nuovo di rifiutare, cercando di rimanere serio, e fu aiutato da suo padre che esclamò. «Mio caro amico, non ce n'è bisogno. Frank sa riconoscere una pozzanghera quando la vede, e arriverà in un baleno alla casa delle Bates dal Crown». Così se ne andarono, e dopo essersi accomiatati uno con un saluto cordiale, l'altro con un inchino, Emma fu davvero felice di questo primo incontro, e li pensava sereni e contenti a Randall's a ogni ora del giorno.